Probabilmente nel messaggio culturale che parte dalla riforma dobbiamo cambiare approccio. Prima ancora, probabilmente, che parlare delle discipline sportive, dobbiamo parlare delle discipline sociali. Perché nel momento in cui trovo che la dispersione scolastica ha finalmente uno spazio nel modello culturale che non ha effetto rispetto al lavoro sportivo, nel momento in cui trovo che l'inclusione sociale ha uno spazio grazie al lavoro sportivo, allora mi chiedo in che misura questo tipo di discipline fino all'altro giorno considerate di serie B, considerate quasi in grado di contaminare un'attività che doveva necessariamente uniformarsi ad uno schema formale di classificazione all'interno di una disciplina riconosciuta. Mi chiedo probabilmente quando arriverà che riconoscimento culturale per questo tipo di risultati. è arrivato il momento di cominciare a valorizzare le discipline sociali come discipline di riferimento dello sport, lo sport come pilastro del terzo settore.